Depura il fegato, l'intestino e lo stomaco, eliminando residui e tossine che causano mancanza di energia e problemi di salute. Se vuoi pulire a fondo il fegato, l'intestino e lo stomaco, il rimedio che ti suggeriamo in questo video farà al caso tuo, si prepara con ingrediente che sicuramente hai già in dispensa. E se ami i rimedi naturali, clicca su mi piace e commenta per poter continuare a proporti rimedi come questo, cominciamo subito. Per la preparazione di questo rimedio usiamo qualche foglia di salvia. Grazie alle sue proprietà depurative, la salvia depura il fegato e il colon. Contiene oli essenziali dalle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che aiutano a proteggere il fegato dallo stress ossidativo. Il secondo ingrediente è la mela verde. Tagliala a pezzi ed elimina i semini, ma non la buccia. Anche la mela verde ha proprietà depurative ed è ricchissima di nutrienti dalle proprietà, tra le altre, antinfiammatorie. Non a caso viene spesso inclusa in tantissimi altri rimedi naturali. Il terzo ingrediente del nostro rimedio è l'aglio. Ne useremo tre spicchi, che andremo a sbucciare e tagliare a pezzi. L'aglio ha proprietà antibiotiche che aiutano a regolare le funzioni del fegato e a proteggerlo. Useremo anche due fette di limone. La vitamina C contenuta nel limone depura a fondo il fegato e aumenta le difese. Il limone stimola la produzione di nuovi enzimi, favorendo la rigenerazione del fegato. Inoltre, rimuove le tossine dal sangue. Infine, prendiamo un pezzo di zenzero. Lo sbucciamo e lo tagliamo a pezzi. Lo zenzero è una ricchissima fonte di benefici per la salute, e migliora il sapore del rimedio. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, li mettiamo a cuocere in una pentola con un litro d'acqua. Lascia cuocere per circa 10 minuti. Questi rimedi naturali sono ottimi e fanno benissimo alla nostra salute. Puliscono l'intestino, il colon e il fegato e ci fanno vivere meglio e di più. Trascorsi i 10 minuti, lascia raffreddare il rimedio e poi filtra il liquido in un bicchiere. Bevi un bicchiere del rimedio tutte le mattine, prima di fare colazione, per un paio di settimane. Conserva il rimedio in frigo. Grazie per aver visto tutta la ricetta e alla prossima!